Torniamo in Italia, nelle corti d'appello, l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Da Milano a Palermo la fotografia dello Stato della Giustizia nel nostro Paese. Un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Roberta Ferrari. Un minuto di silenzio per le vittime del Covid, la cerimonia senza pubblico trasmessa in streaming. Le 26 corti d'appello inaugurano così l'anno giudiziario, lanciando l'allarme per la durata dei processi. La pandemia ha inciso profondamente sulla macchina giudiziaria. A Milano è quasi paralisi dell'attività, ha sottolineato nel suo intervento la nuova procuratrice generale Francesca Nanni. Le udianze penali in corte d'appello sono diminuite del 73%, quelle civili del 70%. È difficile capire, ha aggiunto la procuratrice, quando sarà possibile tornare alla normalità. Nello stesso momento proprio la pandemia fa aumentare il ricorso ai giudici con esposti in tutta Italia le morti nell'RSA, i contagi negli ospedali, le denunce per infortuni professionali legati al Covid. Il presidente della corte d'appello di Palermo ha aperto la sua relazione ringraziando i medici impegnati nella lotta al Covid. Poi ha parlato di come la mafia continui ad esercitare il suo violento controllo sulle attività del territorio. La criminalità organizzata sfrutta proprio il virus per proporsi come modello di welfare alternativo e criminale. Il ministro della giustizia Bonafede assiste nella nuova aula bunker di La Mezzia Terme e sottolinea l'importanza di una giustizia più veloce per far sentire la presenza dello Stato al fianco dei cittadini. Durata dei processi, prescrizione e caso Palamara, gli altri temi che sono immersi nelle 26 relazioni dei procuratori generali. Il mistero della corte